eh quella è la mia mattonella eh si vede che non sei come me mosella comincia la star league giornata numero 3 questa x edition e comincia con il derby argentino ultra sbocca di maglia bianca contro il river plate questo è un derby no che è successo siamo qui con il folletto irlandese di maio le formazioni soprattutto bocca per happy birthday mattia trassi stamattina ha giocato il cugino più piccolo e allora non lo so canitano per gli ultras ferraiolo al centro trassi giova notar stefano con altieri avanti battista disposizione di maio il river grimaldo tra i pali un grande ritorno intanto si rotola che sport è e allora dicevamo grimaldo tre pali bocchetti tram palladino che torna terzino perché a centrocampo c'è il ritorno di mario ruopolo con mosella avanti ricetta fuori non c'è rellesposito indisponibile oh ma sei scemo e maio impazzita occhio alla star league saranno tre i match quest'oggi comanda il napoli comanda il benevengo e comandano gli hammers sei punti a tre ci sono proprio ultras bocca a zero liverpool wolvers santos e river plate oggi però è giornata di grandissime sfide gli ultras proveranno ad attaccarsi alle prime appunto in classifica quando va a fare il sesto punto il river proverà ad abbandonare la coda della classifica ma occhio alle sfide che seguiranno rinviata santos wolves se non sbaglio rinviata mi ricorda sì ma occhio ad ammes napoli e a benevengo liverpool e occhio a ninuzzo d'angelo cerchiamo parrucchini 0 a 0 risultato oggi è una grande domenica loris sono grandi sfide c'è il derby non ne vedo neanche uno incredibile perché? bravo tu sai che fai qualcosa a differenza dei tuoi compagni in squadra e bivaccano che bivaccano la mattina e la sera certo certo ma mi vuoi fare un favore? no dai mi metti il liquido qua dentro non so come si fa ma alza il pallone di dentro c'è una sfigata palla dentro tafuri anticipato da ferraiolo parte il lancio bocchetti va di là vada palladino muove il pallone a mosella ancora lui il river che arriva dopo la entrambe le squadre arrivano dopo la sconfitta contro il napoli sono tutte e due che hanno perso contro il napoli nelle prime due giornate gli ultras però alla prima partita hanno vinto contro il santos una sconfitta invece per il river perché fino ad ora hanno disputato solo una partita rinviata a quella con il liverpool a parte il pallone 6 a 2 hanno perso gli ultras contro il napoli 8 a 1 invece il river dopo un bellissimo primo tempo per entrambe le squadre sono le squadre che se la sono giocate i primi 25 minuti contro il napoli cadendo poi nella ripresa entra per il river panetta nuovo acquisto si muoverà a destra nella difesa a 3 bocchetti da dove l'avete scovato questo ragazzo amico dell'attaccante amico di tafuri esatto amico di tafuri occhia tafuri prova palo dopo la parata di canitano chi l'ha presa sta palla secondo te? prima banane e paltieri prima banane e paltieri zitta schioppa anche palo come no? palo proprio no ah il palo no l'ota Stefano contropiede palla dentro grande intervento di palladino ma arriva ancora Luca Battista che porta il pallone sul sinistro cerca la conclusione grande intervento ancora di palladino poi panetta che invia sul piede di Ruppolo che prova a ripartire il pallone centrale vada Mosella destro giova si afferra afferra il pallone Grimaldo palla lunga palla lunga molto lunga tafuri al volo guarda con le mani subito palla dentro Mosella controllo panetta rimette mezzo occhio tafuri saltatissimo banana Ruppolo 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 prova ad andare di là Mario passalo Barry sale doppio passo Battista fuori tafuri buono il loro guizzo prova Canitano due tempi occhio a Battista non riesce a impattare sul pallone a dovere rimessa per gli ultras affidata a Giova altieri per Notar Stefano ancora rimessa palla di là De Maio parte un cross Grimaldo in due tempi raccoglie non c'è De Rosa oggi tra i pali del River ha giocato avanti anche con gli ultras è riusciuto le partite contro il Napoli tra l'altro dove ha segnato un uomo clamoroso dalla porta del River Mosella secondo pano Giova di testa arriva tram così è così Ruopolo spinge morto altieri per Raiolo scodella dentro salta Ruopolo Tafuri controllo vada Mosella un po' lungo Tafuri destro al volo Panetta poi rinvi a Giova cerca Battista colpo di testa fallo di tram Notar Stefano destro potente Grimaldo salva ancora Notar Stefano palla dentro Panetta di tacco non arriva Battista controllo poi vediamo un po' ancora Battista sinistro deviazione calcio d'amore al tir vasoterra Battista ancora Tramma conquista una rimessa importante può respirare il River no 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 Panetta non con i piedi ma con le manine su questo campo allora Tafuri la difende perde la sfera destro di a tiri sempre 0 a 0 Notar Stefano c'è il pallone dentro Bocchetti salva torna a fare il centrale di difesa Bocchetti vista anche l'assenza di Panella di solito è lui il centrale del River interviene Trassi o Giova ora Trassi palladino siamo già al ventesimo Tafuri la difende Tafuri Quizzo allarga Panetta è una palla lunga ma arriva comunque Panetta sarà a fondo no caccio d'angolo parte il cross acrobazia di Mosella recuperiamo la pallata dentro per Tafuri lunga lo manda a quel paese buona affluenza all'Avion di solito quando gioano si è due squadre infatti c'è abbastanza gente lì fuori Panetta vediamo chi serve vada Tafuri un po' lungo ma ci arriva interviene Ferraiolo rimessa River con le mani di Tafuri gioca a lungo salta Ferraiolo Mosella va in guizzo ancora lui notar Stefano occhio all'accelerazione di Berry punizione Berry palla in rete autorete autorete di Mosella autorete ha capito lo schema Berry palla al punto debole del River Mosella è autorete 1 a 0 River anzi Ultras vediamo ora Battista Svenuto Svenuto improvvisamente Prova a entrare Roppolo 2 su di lui Trasi rinvia sul naso di Tafuri naso Trasi dentro Battista arriva Mosella parte il rinvio trova Tafuri controllo finta arriva Berry Tafuri così poi il sinistro Palladino Mosilla va ancora lui serve Palladino prepara il destro arriva al tiri velo di schioppa Bocchetti sviene sul più bello è l'arbitro deve stare in mezzo al campo Berry va bene non pari Bocchetti fa l'arbitro dall'alto a parte il lancio lungo Giova fondo Ferraiolo prova a spaccare il campo con una discesa resiste Ruleta ancora lui Sterza Palladino dentro Berry controllo Rimaio vada Banana che fa rinvio lungo Itaco Trasi ma regala il pallone a Palladino va così in mezzo a due laterale laterale flucco ma non c'è di dentro Edo Bacri vai sale video personalità di Bocchetti va con le mani dopo i testi di Ferraiolo al tiri allunga a Berry esce Grimaldo porta vuota De Maio Giova sinistro Grimaldo tocco corto a Bocchetti ok 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 ma ho tempo se ne sta andando Don un minuto e mezzo ecco la river palladino attaccato si rifugge da Mosella Bocchetti non passa si gioca nello stretto al tiri ruba contatto punizione occhio a Ferraiolo punizione siamo sui 18 metri prova fuori e finisce il primo tempo minuti di secondo tempo e tu hai fatto un autogol e tu hai fatto un grande gol tu hai fatto un grande gol così dico mannaccia ho cambiato tutto in due minuti inizio ripresa roppo la volta siamo 2 a 1 come è buono 2 a 1 river no ultras perfetto ho cambiato il parziale da 1 a 0 a 2 a 1 in due minuti attenzione qua ma come ha segnato Barry Loris veramente un tipo bellissimo imparabile parabile parabile dici era parabile 2 a 1 era parabile no non era parabile salta Battista non trova l'appoggio arriva Barry Battista si inserisce aia scontro terribile Grimaldo restituisce no che è successo no è vale di seconda tutto fermo Grimaldo incredibile banana si salva ma schioppa 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 vediamo un po' schioppa è rimessa in gioco la voleva ridare non voleva tirare credibile che era successo Grimaldo con la sua vita però l'abbiamo ripreso e quindi puoi anche ritagliarlo e dire vale metti la musichetta sotto e vale e allora vediamo Giovao Ferraiolo penso più Ferraiolo col destro morbida palo clamoroso palla in rete Altieri 3 a 1 ultra sbocca si fa le croci da furio alle mie spalle il suo river sta cadendo 3 a 1 contro l'ultra sbocca che provano a salire a 6 punti agganciando le prime 3 della classe che dovranno giocare tutte dopo sinistro rete berri ancora berri show di Notar Stefano in questo secondo tempo due gol fantastici e 4 a 1 ancora berri perde qui il palleggio per vento falloso 4 a 1 il risultato palladino destro banana poi ancora lui non la trova poi si ancora lui ti lo tocca al suo lascia 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 ferraiolo pennella battista da solo tramma tra si rimescola rimaldo provo provo ad andare panetta si butta al centro panetta provato la gran giocata De Maio battista fa correre Altieri morbida che taglio occhio al folletto irlandese che arrivava da dietro finisce da fu bocchetti mosella lunga la palla lunga battista chiude bocchetti rimessa ultras si va con De Maio con le mani Loris battista recupera con le mani mosella subito verso Tavuri petto michè petto panetta arriva battista ruba palla c'è a trassi sul secondo battista serve giova occhio a tramma panetta altro scavetto la rimessa è sua mosella attacco di giova altieri pallone che esce ancora panetta serve Tavuri pallone alto tramma mosella buono l'aggancio vantaggio ancora lui cambio di là verso bocchetti controllo difettoso e passaggio ancora peggio con le mani giova un po' di testa di ruoppolo giova sbatte sul ruoppolo giova secondo palo bocchetti lasciala però doppio tacco però doppio tacco a volo niente male qua si vede la qualità sbagliamo sella colpo di tacco di giova De Maio lancio lungo banana la tiene De Maio non trova tiri bocchetti Tavuri dentro ruoppolo sbaglia tutto non è giornata per lui Tavuri difende la sfera larga panetta male giova ruba sinistro giova chiude benissimo trama ferraiolo ruoppolo porta il pallone cerca d'esterno trova però il portiere avversario che va con le mani solo battista contro tre anticipo di trama il pallone è di là ruoppolo recupera battista perde la sfera poi la riconquista trama mette il piede De Maio la testa ruoppolo anche il destro destro di altieri prova palo rete Luca Battista colpo da fuori classe ed è 5 a 1 ultra sbocca colpo di testa di Mosella e poi Canitano bocca la sfera Di Maio lungolinea Panetta recupera tunnel no c'è Giova la tiene in campo poi arriva ruppolo scatenato palla per Mosella tutto solo cacciò d'angolo come siamo io noi Vincenzo Panetta parte il cross poi la palla rinviata tram mette giù Battista contro due Grimaldo Panetta sciabolata salta bene Ferraiolo recupera lui sale sterza Mosella c'è fallo morbida Ferraiolo blocca Grimaldo ce ne se pa deviazione palla in rete ruoppolo c'è il 5 a 2 la riapre con un tiro scaccio di punizione deviato deviato però Battista fuori di nulla ruppolo Panetta cerca qualcosa va Panetta cacciò d'angolo cacciò d'angolo va Panetta palla dentro secondo palo Bocchetti con le mani Giova pallone che passa 2 su Mosella anzi Palladino Berry contro 3 la perde Palladino allunga male c'è ancora Berry grande partita per lui Ferraiolo parte il lancio poi Grimaldo la tiene la tiene c'è anche fallo Giova prepara sinistro il pallone Tafuri non è riuscito a coordinarsi per la conclusione va Ferraiolo con le mani lungo linea Battista palladino la palla che gli rimane incollata occhio lì in mezzo fallo Berry prepara la sua conclusione quindi le misure quasi col righello Berry destro buca la porta ancora lui Berry va palla per al tiri Bocchetti prova a ripartire il river ancora Palladino Battista sinistro Grimaldo calcio d'angolo ultras battlecross panetta sistema la palla verso palladino che cerca ma non trova Michele Tafuri Battista non controlla Bocchetti al tiri Coraltieri gira improvvisamente fondo Ramma mette il pallone fuori la rimessa è per gli ultras palla dentro di Trasi saltano tutti rimane lì Ruoppolo allunga c'è Berry che nasconde e prepara il destro parte il cross Trasi provato a scendere lui ultimo tocco il suo Tafuri cosa voleva fare non si sa Battista prepara il sinistro rete chirurgica la sua conclusione a questo punto gli ultras salgono a 6 punti e noi andiamo da Battista siamo qui con uno dei protagonisti di questi ultras Boca che distruggono il river Battista tu e Berry migliori in campo assoluti bellissima partita da parte vostra ben giocata si devo dire la migliore la migliore della stagione di questa stagione tre partite salite a 6 punti agganciate la vetta con tutte le altre che giocheranno dopo tra le 22.30 alle 11.30 non potrete rimanere in vetta perché sicuramente uno anche con un pareggio vi supera va bene così però questi ultras hanno già giocato tre partite hanno giocato con la squadra apparentemente più forte del girone facendo un ottimo primo tempo collassando così come il river nella ripresa siete a 6 punti bilancio fino a questo momento molto positivo sono molto contento stiamo giocando bene non è la vetta che ci interessa pensiamo a giocare ogni partita e vediamo che ne esce alla fine pensate alla qualificazione tra le prime 4 qualificazione primo obiettivo poi quello che esce in più si vede allora complimenti a Luca a chi dedichi le tue reti a Banana anzi a Mattia che è il compleanno a Trasi facciamo gli auguri e salutiamo Jutras grazie a tutti